Non solo le multe combinate dalle autorità, non solo le richieste di risarcimento da parte dei consumatori, su Volkswagen anche la tegola miliardaria delle cause intentate dagli investitori, una nuova tegola per quanto non imprevista, detentori di azioni che si sono svalutate a causa dello scandalo sulle emissioni inquinanti dei diesel della casa automobilistica tedesca e che chiedono compensazioni per un totale che supera gli 8 miliardi di euro. Il Tribunale di Braunschweig conferma di aver ricevuto finora più di 1.400 querele, la metà delle quali nella sola giornata di lunedì, cioè il primo giorno lavorativo dopo l'anniversario dello scandalo scoppiato il 18 settembre del 2015. Il Tribunale ha dovuto far ricorso a personale extra per trattare tutta la documentazione affluita in questi giorni per il timore di molti investitori di non poter più proporre una querela una volta passato il limite di un anno dal giorno in cui i fatti sono stati rivelati.